Come museo, ovviamente essendo museo dei mezzi di comunicazione, siamo stati un po' diciamo al passo con quelli che sono i mezzi di comunicazione moderni. Li abbiamo utilizzati tutti per restare in contatto con quelli che sono i nostri vari pubblici che abbiamo comunque coltivato un po' negli anni. Ma il contatto diretto con le persone, l'emozione di riaprire la porta, l'emozione di vedere l'entusiasmo negli occhi dei visitatori in visita proprio al museo è mancato veramente moltissimo. Anche il MUMEC, il Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo, ha finalmente potuto riaprire le porte ai visitatori, ovviamente con ingressi contingentati e progettati nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Ovviamente ingresso contingentato, igienizzazione delle mani, obbligo di mascherina, ormai classici a cui purtroppo siamo un po' abituati. Sabato 1 maggio alle 11, poi all'Infopoint, nel percorso delle scale mobili di Arezzo, arriva la mostra collaterale alla fiera antiquaria Cento anni di Fellini, il secondo step espositivo tematico proposto in città dal MUMEC in collaborazione con la fondazione Arezzo in Turra. Noi come Museo abbiamo fatto un accordo con la fondazione Arezzo in Turra per utilizzare l'emiciclo, cioè i locali dell'emiciclo, oltre che come accorgienza turistica, come in effetti è la loro fine, ma negli ambienti abbiamo messo una collaterale, sempre della fiera antiquaria per la riapertura e per il buon auspicio appunto di questa grande manifestazione, una sezione distaccata dedicata a Federico Fellini. Cioè praticamente abbiamo fatto una unione tra il Centro di Accoglienza Turistica e il Museo dei Mezzi di Comunicazione che possono vedere, passando dall'emiciclo delle scale mobili, la mostra così dedicata a Fellini e che ricorda a questo punto che al museo c'è poi il resto della mostra sempre dedicata a Fellini che abbiamo deciso, visto e considerato che è stata chiusa per mesi e mesi, di prologarla fino al dicembre del 2021. 2021